A causa del vento forte ieri sera in Viale Bovio a Teramo è caduto un platano. La pianta non era tra quelle malate segnalate dal servizio fitosanitario regionale, pertanto potrebbe essere caduta a causa della siccità. Probabilmente sì, ieri sera intorno alle 19.30 c'è stata questa problematica, c'è stata segnalata la presenza di un albero caduto, sono intervenuti polizia locale, vigili del fuoco per togliere subito il problema dalla strada. Nessuno ha rischiato nulla? Nessuno ha rischiato nulla, pare sia così solo danni a cose. Il problema era soprattutto riferito al fatto che appunto, essendo un platano, quindi parliamo di una pianta che deve essere attenzionata per quanto riguarda il problema del cancro colorato. Comunque da un primo controllo è una pianta sana? L'intervento ha portato almeno dalla prima verifica a non riscontrare la presenza del cancro. Poi ovviamente io come ufficio, ma diciamo già come è stato già in precedenza, abbiamo contattato il servizio fitosanitario regionale che è competente per questo tipo di problematica, affinché si faccia verifica. Dunque presumibilmente comunque la siccità perché sta facendo caldo e manca l'acqua? Mi pare sia anche questo il problema, non piove, il problema della siccità permane, sono delle piante che ovviamente hanno bisogno di essere errorate. La valutazione per adesso rimane con tanti punti interrogativi. Quello che abbiamo potuto verificare è che comunque almeno nell'immediatezza il classico colore rosso che rappresenta la presenza di cancro colorato non era evidente. Quindi diciamo almeno questo, e non era comunque una pianta che era stata segnalata precedentemente come pianta malata. Quindi anche questo è relativo al fatto che lì siamo intervenuti rimuovendo 15 piante e di conseguenza quella lì non era stata toccata perché non c'era stata la segnalazione dell'agronomo per la rimozione.